Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, venerdì 25 ottobre 2019. Fatti due conti, mancano due mesi a Natale, ma già i locali e gli esercizi pubblici sono in anticipo. Già si parla di vetrine natalizie, addobbate a Natale, già da qualche giorno abbondante, insomma, mentre già ancora si continua a fare il bagno al mare. Oggi è il 25 ottobre, questa è la rassegna stampa di Fano TV e il santo del giorno, lo vediamo subito con l'aiuto della grafica, il beato Carlo Gnocchi. Il sole sorgerà alle 7.34 e tramonterà alle 18.10. Il cielo sarà inizialmente nuvoloso, in mattinata, anzi durante la notte, in queste ore del primo mattino, sono possibili anche brevi piovaschi, soprattutto nel settore interno. Si esauriranno questi fenomeni nel corso del pomeriggio, le temperature sono in aumento nei valori minimi stazionari, oppure in lieve diminuzione nei valori massimi. Ancora un po' di vento oggi moderato lungo la costa. Per domani il tempo migliora, avremo tempo in lieve diminuzione, attenzione domani alle foschie, locali banchi di nebbia o nuvole basse nelle ore più fredde della giornata. Domenica 27 ottobre sarà una giornata serena o poco nuvolosa, con temperature in diminuzione soprattutto quelle della notte, ancora un po' di venti tesi anche lungo la costa e formazioni di foschie nelle prime ore e anche la nebbia, banchi di nebbia lungo il litorale. La tendenza è per un tempo stabile, per l'inizio della prossima settimana, con un possibile peggioramento da mercoledì, mercoledì-giovedì, causa di un transito, di una serie di perturbazioni di origine atlantica. L'apertura della nostra segna stampa oggi è dedicata ovviamente al derby Fano-Vis. Ieri tanta gente, tanta gente allo stadio Mancini, si è giocato il derby numero 100, un derby che è stato perso dai Granata e quindi i biancorossi, i pesaresi, hanno vinto 2-0. Tanta gente, dicevo, 2.900, 2.900 le persone presenti allo stadio, 500 i tifosi pesaresi, tra questi ne mancava uno, uno storico tifoso di 31 anni che in occasione però di un altro derby, sempre con il Fano, questa volta in casa, al Benelli, nell'aprile scorso, prima di questo derby ebbe un malore. 6 mesi d'agonia e poi qualcuno parlerà di destino, qualcuno di fatto, insomma, mettetevela come volete, ma ieri, prima dell'altro derby, di questo derby, questo ragazzo di 31 anni è morto, lasciando chiaramente la tifoseria della Vis con grande sconcerto, ma ieri comunque lo hanno ricordato tutti, allenatori compresi. Di questo si parla nei giornali oggi, di questo si parla in apertura nel Corriere Adriatico di questa mattina. L'edizione di Pesaro, Dio Cesco, questo era il soprannome, gli ultra in lutto, la morte dopo sei mesi di lotta, Marchioni, 31 anni, era stato colto da un malore prima del derby di aprile. A centropagine il Fano si arrende, derby alla Vis, Misin e Lazzari decidono la centesima sfida tra i Granata e i Biancorossi. Dunque, storica vittoria dei pesaresi al Mancini dopo 31 anni. Il Carlino di Pesaro, la notte è della Vis, Misin apre, Lazzari chiude, battuto il Fano, infarto invece, prima del derby di aprile, muore Cesco, tifoso Biancorosso. Cuore di Leone, siamo sul Carlino di Ancona, grazie Ancona, il campione di ciclismo Mario Cipollini operato al Torrette. La politica verso le regionali, Mirko Carloni passa alla Lega, le Marche sono in declino. La mia laurea ad Auschwitz, Carlino di Macerata, l'omaggio dell'Ateneo alla scrittrice, Edith Bruk. E la pagina di sport del Corriere Adriatico con le fotografie, Fano timido, vince la Vis, i Granata sono sembrati più fragili rispetto alla squadra di Pavan che passa con pieno merito. Nel primo tempo vantaggio dell'ex Alma Misin, poi nella ripresa arriva il raddoppio di Lazzari. Nella foto cerchiata con l'evidenziatore giallo e rosso, vi faccio vedere la fotografia con il papà di Christian Zambettore, l'ex fidanzata dell'epoca, che hanno ricordato il grande doppio ex, perché Christian Zambettore, che è scomparso vent'anni fa, la notte tra l'1 e il 2 di novembre, ha giocato sia nelle fila della Vis Pesaro che quelle del Fano. Ieri l'hanno voluto ricordare. Dispiace perdere così, dice Fontana, l'allenatore del Fano, purtroppo ci complichiamo la vita da soli, dovevamo sicuramente gestire nella maniera migliore alcune situazioni. Mentre Pavan, l'attore della Vis, dice questa vittoria è per Cesco, anche il mister, oltre ai giocatori, ha dedicato l'exploit all'ultra scomparso ieri. Dite che è un blitz storico? Non so, ma di sicuro questa è una grande serata per la Vis. E le due tifoserie unite nel nome di Zambettore, uno striscione per ricordare anche Marchionni. Cristian Zambettore, come dicevamo, Bolzanino di Bolzano, scomparso vent'anni fa, quindi il 1999, che onorò le maglie sia bianco-rosse che granata. C'era Papatiziano e anche Elisa Bertini, la fidanzata, come dicevamo, dell'epoca. Ed ecco la foto di Francesco Marchionni, Cesco, presa da Facebook, ultra fino alla fine, la morte a poche ore dal derby. Marchionni, 31 anni, era ricoverato a Rimini, il malore ad aprile, prima di Vis e Fano, poi sei mesi di agonia e ieri la morte, prima del derby Fano-Vis. Anche il resto del Carlino parla di questo tragico destino. Addio nel giorno del derby, fu colpito da un infarto, ieri era morta, a poche ore dalla partita, allo stadio l'omaggio dei tifosi. Lo striscione per sempre nel cuore della, credo, tua città o mia città, adesso non si capisce, non si legge bene. Ma ieri c'è stato anche l'ultimo saluto a Iarno Pazzaglia. Il parroco Don Giorgio dice, è stato un uomo generoso, sentiamo la sua presenza. Il funerale del 44enne morto domenica per un incidente in motocicletta. È stato un esempio, ci ha insegnato a vivere la vita nel modo giusto. Carambola contro le tubature del gas. Andiamo a Lucrezia di Cartoceto. Cinque feriti, due bambini finiscono in ospedale. coinvolte due auto, grave una donna portata all'ospedale di Torrette di Ancona con l'eliambulanza. E poi lancia polpette avvelenate, caccia all'uomo in gilet giallo. Parte il tam-tam sui social, la Polizia Municipale di Fano attiva le prime verifiche. Ancora dai quotidiani, dal quotidiano Corriere Adriatico a Senigallia, troppo distratti e sballati alla guida. SOS in strada, un incidente al giorno. La Polizia Locale raccomanda prudenza. Le cause sono spesso l'uso del telefonino e l'assunzione di alcol oppure di droga. Dal 1 gennaio 2019 i vigili urbani hanno rilevato 238 scontri, 109 feriti e un morto. Si ferma, e qui rimaniamo in tema, si ferma per far passare un pedone, viene tamponata. È un classico. Ieri pomeriggio, questa volta, a Marzocca, lungo la Stata Adriatica, una donna al volante di una Citroen C3, si era fermata per far passare qualcuno sulle strisce pedonali ed è stata tamponata da una Mercedes. Ora, lei è finita contro il muro di un'abitazione, vedete qui la Citroen C3. È rimasta ferita, non in modo grave, mentre illeso l'altro conducente, vedete, ecco, che guidava il Mercedes. Ora, non si capisce bene, però anche qui, proprio perché non sappiamo bene come sono andate le cose, ci sono due situazioni che si creano. Una, quando ci si presenta di fronte alle strisce pedonali, abbiamo già detto altre volte, uno, il pedone non deve buttarsi sulle strisce pedonali, deve anche lui aspettare che la macchina si fermi e soprattutto, in questo caso, la macchina che vede il pedone non deve inchiodare per farlo passare, perché non gli danno una medaglia se inchioda e fa passare la medaglia al valore. Bisogna che ci sia il buon senso e ci siano le condizioni, uno, per passare, nel caso del pedone, due, per arrestarsi in tempo e non prendersi, come dire, la macchina dietro che gli viene addosso. Va bene? Questo ci vuole un po', perché poi si è sempre agli estremi. Ecco le fototrappole, siamo sempre su Senigallia, contro i furbetti dei rifiuti, giro di vite sugli incivili. Il sindaco Mangialardi al trasgresso dice saremo implacabili. Cipollini, operato al cuore al Torrette di Ancona, grazie a tutti, dice lui, mi avete commosso. Il campione di ciclismo ha scelto l'ospedale di Ancona per un delicato intervento come fece Valentino Rossi e parla di professionisti eccezionali. Mi sono sentito come se fossi in una struttura di New York o di Pechino. Vedere Dello Russo, Dello Russo eccolo qua, il professore Antonio Dello Russo che ha operato Mario Cipollini, iniziare a lavorare all'alba e alla sera ritrovarlo in corsia ti fa capire molto. E poi Carlino pubblica anche la foto di un altro personaggio famoso sportivo, Valentino Rossi, che si fece operare in un'altra occasione, in un'occasione di un incidente, proprio al Torrette. E il professor Antonio Dello Russo parla anche dell'intervento che ha compiuto su Mario Cipollini. Biopsia molto delicata, ecco cosa abbiamo fatto. Qui curiamo atleti molto importanti, ma anche tanta gente proveniente da tutta Italia. E rimaniamo in tema di Giro d'Italia, perché la notizia è che passerà di nuovo sulla panoramica il Giro d'Italia. L'appuntamento sarà per il 20 maggio con la tappa Porto Sant'Elpidio-Rimini. Il grande ciclismo dunque rinnova ancora una volta i legami con la città. Allora, volete sapere dove passerà? Questa undicesima tappa parte da Porto Sant'Elpidio, come abbiamo visto, attraversa Civitanova, Porto Potenza Picena, Porto Recanati, Osimo Stazione, Aspiotermi, Ancona, Falconara, Marzocca, Marotta, Fano, Pesaro, Monte San Bartolo, Bivio per la Seligata, Gabice Mare, Misano, Coriano, Sant'Arcangelo di Romagna e poi l'arrivo a Rimini dopo 182 chilometri. Divorato dal fuoco la cronaca da Pesaro, il ristorante Coccobongo è il locale annesso ai bagni primaveri in Viale Trieste. Forse le fiamme si sono innescate da un surriscaldamento di un macchinario. Nella fotografia vedete un avvilito Riccardo Corsini davanti a quel che resta del ristorante Coccobongo appunto in Viale Trieste. A dare l'allarme sono stati alcuni addetti del vicino hotel Alexander. Tutto è andato in fumo, si sono salvate solo una parte della parete che guarda Viale Trieste e qualche sedia, niente più. Dalla Val Metauro donna truffata al telefono, una denuncia al finto avvocato però ora servirà un legale vero. La polizia infatti ha incastrato l'autore di questo raggiro, si era finto avvocato al telefono, aveva ottenuto dei soldi e dei gioielli da un'anziana, scoperte anche quattro frodi online. Da Fosso Brone e Savelli appello per il restauro della fontana settecentesca, lettera aperta a Ligi, la precedente giunta stanziava 30 mila euro. Il giovedì siamo ad Urbino in Via Battisti impossibile vivere. Pietro Demitri, portavoce dei residenti di Via Battisti a Urbino, dice e racconta qui si sentono urla, schiamazzi e case usate come dei bar con 30-40 persone addirittura dentro e musica a tutto volume. È un problema che si ripete praticamente ogni anno. Ieri, dice sempre Demitri, sono stato alla polizia chiedendo l'installazione di telecamere di una telecamera che era stata promessa. Tra l'altro, qui arriva di nuovo il sindaco che non ha più timore delle elezioni amministrative come magari è successo qualche mese fa. Adesso Picchiaduro dice faccio chiudere tutti i locali a luna di notte. Il sindaco è pronto a firmare un'ordinanza se continueranno i disordini e i danneggiamenti del giovedì. Eh sì, perché il problema a Urbino è il giovedì. Il caos del giovedì notte che, ha detto appunto del sindaco, non sarà più tollerato se continueranno i problemi segnalati. Se continueranno, firmerà questa ordinanza. Dalla pagina di Fano del Corriere, Cecchetelli azzeri le commissioni, Lega e Città Ideale vera minoranza, richiesta ufficiale del Carroccio, 5 Stelle e Stampella di Seri, appoggio per ora fallito, ma l'intenzione è palese. Il consigliere Ilari dice il digestore anaerobico, ci so per questo, ci sono altre vie, diciamo no, a Marche Multiservizi. Fanno shopping online, arriva il bidone, sempre più fanesi truffati sul web, la polizia identifica quattro imbonitori e c'è chi spende e spande con la carta di credito altrui. Una quarantenne, una donna di quarant'anni, si è vista alleggerire il conto di oltre 2.000 euro in pochi minuti. Finto avvocato, raggirò un'anziana, spillando le 5.000 euro, è stato denunciato e poi questa fotografia che tutti i nostri reporter di strada conoscono, siamo ormai più di 7.000, vi invito ad iscrivervi su Facebook per rimanere sempre aggiornati anche su questi fatti che riguardano la vita di tutti i giorni. Noi che viaggiamo in auto, ma anche che abbiamo a che fare insomma con la città, viviamo la città. Ha camminato, è crollato un albero e ha ostruito la strada. I residenti sono rimasti bloccati. È successo tutto intorno alle 10.15, quando è stata lanciata da uno di questi residenti la richiesta di aiuto alla 115 per liberare questa grossa pianta che è crollata su via Tombolina appunto ieri mattina. Andiamo ancora avanti con la nostra rassegna stampa. Sulla pagina di Fano del Carlino viaggio a Fano 2, il quartiere che muore, dopo l'edicole e il bar, la pescheria e la pizzeria, chiude anche l'unico supermercato, ormai ci si viene solo per andare a dormire. Poi un'auto contro la centralina del gas ferita una donna trasferita in eleambulanza ad Ancona. Autunno caldo e arido, tartufo raro e a rischio. Siamo nelle città, nei paesi dell'entroterra pesarese dove in queste settimane ci sono i vari festival, i vari appuntamenti dedicati al tartufo pregiato. Maxi Trifola da un chilo e mezzo sarà in vendita invece ad Acqualagna, la fotografia con questo splendido tartufo bianco pregiato da record, l'esemplare sarà la mascotte della fiera di domenica di Acqualagna. I tartufai dell'Appennino però sono un po' preoccupati, la produzione è scarsa, Capanna dice necessario tutelare la riproduzione sanzionando chi estrae i fioroni pieni di spore, quindi quando vanno a raccoglierli prima del dovuto. Anche il DEM, e qui parliamo di politica, a Mondolfo, il DEM Lucchetti, Massimiliano Lucchetti, ex capogruppo del PD nel Consiglio Comunale di Mondolfo, passa con Matteo Renzi. L'ingresso a Italia Viva, annuncia l'ingresso a Italia Viva e suggerisce al segretario, alle comunali, tutti contro barbieri. Spettri Vampiri a San Giorgio, c'è la castagnata delle streghe, qui mi ha preso in fallo, la dovevo saltare, invece l'ho detta, abbasso le streghe per tutta la vita, non state a perdere il tempo in queste sciocchezze, dolore acuto, domenica la protesta del CAI, questa è una manifestazione regionale contro gli sbancamenti sul Monte Catria per realizzare la pista da sci. Presente tutte le associazioni ambientaliste, forse, dice Fabio Duro, è tardi, ma il nostro silenzio sarebbe visto come una complicità, quindi come dire, non serva a niente sbraitare adesso, ma comunque dobbiamo farlo, perché nel nostro DNA, altrimenti il nostro silenzio sarebbe stato una sorta di assenso. Addio all'ultimo partigiano, qui siamo a Sant'Angelo Invado, che combatte sull'Alpe della Luna, ieri il saluto a Pippo Baffioni, che si unì alla resistenza sui 17 anni. Era del 1925, sempre rimasto al fianco dell'Associazione Nazionale Partigiani. Per chi abita a Senigallia e che ci ascolta da Senigallia, e li salutiamo, sono sempre tantissime, così ci dicono, ecco, c'è questa novità. Nel parcheggio dell'ospedale adesso si pagherà, la sosta è gratis, solo per la prima mezz'ora. Il parco di via Camposanto Vecchio sarà a pagamento dal primo di novembre. La prima mezz'ora, come dicevo, sarà gratis. Per i dipendenti, invece, l'abbonamento sarà da 50 centesimi al giorno. Tutto questo servirà anche per dire, una volta per tutte, stop ai parcheggiatori abusivi. Infatti il parcheggio sarà chiuso con la sbarra e con un addetto alla cassa per la riscossione. In lacrime, sempre da Senigallia, per Danilo. Danilo Ceccomarini è morto a 59 anni, figura notissima in paese e anche nella vicina Corinaldo dove svolgeva la sua attività con la pubblica assistenza. Ci sarà il suo funerale domani, alle 10, nel santuario di San Pasquale Bailon. L'ultimo saluto e l'ultimo abbraccio. Da Urbino, ancora, questa volta però, dal Corriere Adriatico, anche qui il tema è sempre lo stesso, alcol e danni, tolleranza zero. Il sindaco è pronto a fermare un'ordinanza di chiusura anticipata dei locali dopo gli episodi dello scorso giovedì. Coinvolto, dice Gambini, abbiamo coinvolto anche il rettore dell'Università Stocchi, i gestori dei luoghi pubblici sono stati informati noi non siamo la città dello sballo, dice Gambini. E poi, sempre da lì, da Urbino, si era finto, ex alunno, per vendere un giubbotto, raffiche di segnalazioni sul trentenne denunciato per raggiri agli anziani. Il ciaone di Lucchetti al PD, mi iscriverò a Italia Viva, nel saluto anche un monito al centro-sinistra, alleanza con i 5 Stelle, oppure si perde. Andiamo sulle ultime pagine della nostra rassegna stampa, Corriere Adriatico di Pesaro, qui la ZTL è un colabrodo, tutti in balia di auto e biciclette, i commercianti di Via Curiel chiedono interventi, telecamere per monitorare gli ingressi abusivi, sul piatto anche la nuova pavimentazione, la red urbano, il coinvolgimento nelle iniziative del centro storico. Chiude la Saracinesca, sempre a Pesaro, la storica tecnografica, per 40 anni è stato punto di riferimento per aziende e professionisti. Eccola qua, la fotografia di Giuseppe Mattioli, titolare del grande negozio del centro-direzionale Benelli. Cocobongo distrutto dal fuoco, il rogo divora di struttura e arredi, le fiamme sono partite dall'interno, dall'interno del locale, chiuso da 15 giorni, il titolare dice, rammaricato, insomma, 20 anni che se ne sono andati in fumo. Poi, a proposito delle ragazzine investite, ieri il semaforo non ci sta, pericolosità sulla statale davanti al Cecchi, all'istituto, alla scuola, il Comune valuterà soluzioni per ridurre la pericolosità, quella zona dove due ragazzine di 17 anni, studentesse dell'istituto agrario, sono state investite mercoledì pomeriggio sulle strisce pedonali in uno dei punti più critici della statale 16 davanti appunto all'istituto agrario. Carloni va alla Lega, Arrigoni, Gela, Fratelli d'Italia, le marche a noi, il consigliere regionale fanese lascia Alleanza Popolare e passa il carroccio, il commissario Arrigoni dice, sarà lui il candidato? Non sappiamo, però è una risorsa e dunque si comincia in qualche modo a lavorare anche in maniera meno, come dire, meno nascosta, ma ormai è ora, siamo ormai a qualche mese considerando poi che c'è il Natale di mezzo, insomma, poi le elezioni arrivano subito. Anche la Lega, dicevo, scende in campo e chiede il candidato, il consigliere di Api, Carloni, passa dunque al carroccio, il commissario è sicuro, dice, le marche verranno a noi, e quindi le marche da rosse passeranno e diventeranno azzurre o comunque passeranno al centro-destra. E su Carloni dice, è un, come dice, ve lo dico subito, è una risorsa. Ecco, nel frattempo, scusate, ma stavo guardando un'altra cosa sulla messa in onda. Allora, Vallefoglia, parata di VIP sul tappeto d'Orovadese, Letta e Lotito premiati in Piazza Mattei, per questa edizione sono attesi ancora Ricciarelli, De Santis, Fragomeni, Garco e Pamela Prati. Tartufo Record da Aqualagna, l'abbiamo già visto, e poi Ucchieli, invece, che va in missione in Albania e ha fatto un accordo con l'omologa Sacco. È un accordo, un accordo di amicizia, di cooperazione fra la città di Vallefoglia e Durazzo con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione economica, turistica e culturale fra i due paesi. Un accordo con la stretta di mano, come vedete, tra Palmiro Ucchieli e Valbona Sacco. Siamo in chiusura, velocemente diamo uno sguardo di nuovo alle prime pagine del Corriere del Carlino, il Corriere Adriatico di Pesaro, Addio Cesco, gli ultra in lutto, la morte dopo sei mesi di lotta, Marchionne, 31 anni, era stato colto da Malore prima del derby di aprile, a centropagine il Fano si arrende, è derby alla Viss, Misini e Lazari decidono la centesima sfida tra Granata e Biancorossi, Biancorossi che vincono al Mancini per due reti a zero. La notte è della Viss, Misini apre, Lazari chiude, battuto il Fano, infarto prima del derby, del derby di aprile, muore Cesco, tifoso biancorosso. Poi l'ultimo saluto a Pazzaglia, era un uomo generoso, motociclista di 44 anni di Pesaro, morto in un incidente, rugo devastante, locale incenere, distrutto il ristorante Cocobongo di Bagni Primavera, in Viale Trieste, i titolari in fumo, il nostro lavoro. Adesso ufficiale Carloni nella Lega, scelta di campo, mentre la manifestazione in programma sul Catria per gli sbancamenti, c'è la maxiprotesta, anche se, come abbiamo visto, servirà a ben poco. Grazie per aver seguito la nostra segna stampa, ci vediamo questa sera alle 20.30 con il telegiornale, vi ricordo che subito dopo andrà in onda il Che Tempo Farà con i comici del San Costanzo Show e poi voglio ricordarvi anche l'appuntamento di lunedì sera, lunedì sera dopo il telegiornale e dopo Che Tempo Farà c'è di nuovo Primo Cittadino e in diretta risponderà alle vostre domande il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti.